Allora, le sere mi è capitato che stavo sul divano, sai, a casa quelle sere proprio di ozio, stavo lì, pigiama, calzini, con lo smartphone a scorrere Facebook, ma sai quando nemmeno leggi quello che stai a scorrere? Cioè stai lì a scrollare ma in realtà ti interessa solo avere le lucette colorate sulla mano, che se uno ti togliesse il telefono e ti mettesse le lucine di Natale andresti a farti altri dieci minuti prima di rendere conto, no? Allora, scorro le cose, hai foto dei gattini, gente che se lamenta, zia che condivide la fake news, clic rimuovi dagli amici, altre foto dei gattini, Mattia scrive, papà ha avuto un incidente, sto andando all'ospedale, speriamo non sia niente di grave. Ora, la prima cosa che ho fatto è andarmi a leggere già che c'erano una cinquantina di commenti, che ho detto, non voglio scrivergli, oh fammi sapere, il post era di due ore prima, magari nei commenti si scopre che il padre era già morto, arrivo io, fammi sapere. Quindi, non vi raggelate, cioè finisce una storia a lieto fine. Sto lì, guardo i commenti, effettivamente la gente sta ancora chiedendo le cose normali, quindi, oh, facci sapere, non farci stare in pensiero, speriamo che tutto va bene, un abbraccio, incidente è maschile se non mettiamo l'apostrofo magari. Ora, questi sono i momenti in cui io rimpiango di aver abbandonato il mio passato da informatico, perché adesso sarei in grado, attraverso il tuo profilo Facebook, di risalire al tuo indirizzo di casa, entrarti nell'appartamento, incaprettarti a una sedia e prenderti a schicchere sulle gengive finché non pisci dagli occhi, testa di cazzo. Se non mettiamo l'apostrofo magari, ma magari che? Che deve succedere? Qual è la prospettiva di miglioramento per l'umanità che è stata bloccata dall'apostrofo di un poraccio che l'ha scritto su Facebook? Se non mettiamo l'apostrofo scopriamo la cura per il cancro? Ma che deve succedere? Ma non lo capisci che sei inopportuno? Sei inopportuno come uno spogliarello di adinolfi ad un matrimonio gay? Sei molesto come selvaggia Lucarelli mentre fa una cosa qualsiasi? Io ho certe cose... Eh, ma l'ignoranza va combattuta. Ho capito, ma ho sbagliato un apostrofo, non è che voto i nazisti. Se sbaglio un apostrofo è vero che commetto un errore, ma se tu mi cagli il cazzo in questo modo commetti un errore molto più grande perché odierò te, Manzoni, la lingua italiana, aumenta l'odio mio e generazionale e questo a lungo andare mi fa votare i nazisti. Eh, ma la grammatica è importante. Ok. So benissimo che la lingua è importante in un paese fatto principalmente da gente che non scopa mai. Perché è questo il problema, lo sappiamo benissimo tutti. Perché quando l'essere umano scopa, chiude un occhio. Ma il punto è che le cose importanti non sono importanti sempre, dipende dal contesto. Cioè, guardare a destra e a sinistra prima di attraversare è molto importante. Ma se sono le quattro del mattino e abiti a Pesco Rocchiano in provincia di Rieti, no. Lavarsi i denti e pulirsi col filo interdentale è molto importante. Ma se hai deciso che tanto fra mezz'ora ti tagli le vene, no. La grammatica è molto importante. Se sei Di Maio, no. Io veramente di solito non è che mi incazzo quando vedo queste cose. Normalmente io vado avanti, continuo a scrollare Facebook, faccio spallucce, spero che muori e basta. Però queste cose mi fanno arrabbiare perché la gente che è colta e istruita, in teoria, se si incazza per la cosa grammatica, vuol dire che ci dovrebbe avere una cognizione di che cosa è la cultura. Ma se tu usi la tua cultura e la tua istruzione per appestare i rapporti umani, non hai capito un cazzo e devi morire. Se ti metti sotto un camion, non è che sono contento, lo sto guidando. Grazie a tutti.